Immaginatevi il vostro lavoro, immaginatevi andarci non più 3, 4, 5 giorni alla settimana, ma immaginatevi andarci ogni singolo giorno di tutta la settimana. Bene, già questo è pesante, poi dici vabbè ci sono le vacanze e tutto. Immaginatevi di farlo per un anno intero, ogni singolo giorno, andate al lavoro, fate le vostre ore, tornate a casa, il giorno dopo stessa cosa, ogni giorno, ogni giorno, ogni singolo giorno per un anno intero. Questa è la sfida che mi sono messo di fronte io all'incirca un anno e due mesi fa, perché per la precisione io ho fatto questa sfida, l'ho portata avanti per 417 giorni di fila ed è stata una cosa abbastanza assurda. Per chi non lo sapesse, magari questo qua è il primo video che guarda, non sa chi cazzo sono, non sa chi cosa faccio. Io sono Terenas in arte, Lapo Raspanti, e il mio lavoro è molto semplice, non ho un lavoro, ne ho più d'uno. Sono un telecronista sportivo, commento League of Legends che è un videogioco, ma commento i campionati italiani, commento i campionati europei, commento i campionati mondiali, e questo è uno. Sono uno streamer, cioè su Twitch io streamo quello che faccio, che sia giocare ai videogiochi, parlare con voi, eccetera, eccetera, eccetera. E in pratica sono in live, costantemente, come una trasmissione televisiva, e poi nel tempo libero, sai, quando ho qualche voglia di fare video, faccio anche dei video su YouTube. In tutto ciò, il lavoro che ho scelto per fare per un anno di fila ogni singolo giorno è stato quello di Twitch. Ho streamato ogni singolo giorno, senza una pausa. Che fosse Natale, che fosse vacanze, Ferragosto, nulla reggeva. A prescindere, ogni giorno sono stato in streaming. Alcuni giorni hanno avuto degli orari strani, alcuni giorni hanno avuto degli orari regolarissimi, invece. E la cosa più assurda di tutto ciò è che, dopo i 365 giorni, ero là che mi dicevo, ok, quindi? Cioè, mi sono tolto la soddisfazione personale, ma nel viaggio mi sono reso conto di come abbia avuto impatto sulla mia vita. E per questo, dopo un po', all'inizialmente ho continuato e poi mi sono reso conto, mi sono detto, ok, fermiamoci. È davvero fondamentale che ci fermiamo ora. Se non mi fermo ora, merda. Detta proprio schietto, perché mi sono reso conto di quanto mi stesse facendo proprio male attualmente. Ma proprio a livello psicologico. A livello fisico, vabbè, dormo già poco di mio, ho avuto insonnia di qualsivoglia problema. Quindi, quello lasciamolo perdere, perché quelli sono problemi che ogni persona può affrontare nella sua vita. E quelli, ognuno ha il suo bagaglio di pesi addosso. E su questo non voglio parlarne. Per quanto riguarda, invece, quella che è stata la mia esperienza. È stato strano, perché di solito, come facevo prima di questa esperienza, prima di questa maratona di lavoro, il modo in cui me la ragionavo è dico, ok, tengo due giorni liberi a settimana e gli altri cinque lavoro. Poi, dipendentemente, magari c'è qualche settimana in cui lavoro un giorno in più, qualche settimana in cui lavoro un giorno in meno, e cerco di bilanciarmi, sempre rispondendo un po' a quelli che sono gli stimoli della mia testa e del mio corpo, che mi dicono, sei stanco, non sei stanco, e così via. Dopo, però, quelli che sono svariati mesi, che fai ogni singolo giorno lavori, ogni giorno senza pausa, senza vacanza, senza niente, il tuo corpo smette di darti questi segnali. Non ti dice più, smettila, sei stanco, sei distratto, sei sfinito, non hai più idee, non hai più voglia, non hai più passione. E dopo un po' il tuo corpo, quindi, comincia a reagire dicendo, vabbè, cazzi suoi, vuole fare così, lasciamolo fare così. Prima o poi se ne accorgerà di testa. Ci sono voluti 417 giorni perché me ne accorgessi, con la testa, perché la mia testa continuava a dire, dai, ce la posso fare, sono in Maradona, era più la motivazione di andare avanti finché non arrivavo al traguardo vero e proprio, la mia idea. Il focus era tutto su quello e dovevo riuscirci ad ogni costo. E ci sono riuscito, al costo di dover fermarmi totalmente per capire che cosa mi stesse succedendo e per quale motivo alcuni giorni ero proprio là, tipo, nemmeno cadavere, ma proprio zombie. Era proprio lì che guardavo e dicevo, perché sto facendo questo? Perché sto andando avanti? Ed è una sensazione terribile quando ti fermi e te ne rendi conto. Perché nel mentre che lo stai facendo non hai il modo di fermarti e ragionarti su quello che stai facendo. Quando ti fermi di colpo, invece, ti rendi conto, ah, perché lo sto facendo? E ti esplode tutta la realtà attorno, perché ti hai ricostruito per un anno intero tutto questo castello di carte attorno per far funzionare questo sistema e il tuo corpo è tipo in... proprio lo guarda e lo rifiuta e dice No! Perché farlo? È stupido! È stata una sfida alquanto stupida ora che l'ho finita, ma mi ha fatto capire molto di più su quello che ho bisogno io, come persona, per funzionare. E non per funzionare nel senso fare bene il mio lavoro e basta, perché fare bene il mio lavoro... Ogni persona che sa fare il proprio lavoro sa quando lo fa bene, sa quando lo fa male, sa come farlo bene e sa quando può impegnarsi un po' meno e farlo... eh, però accettabile. Non è quello il punto. Saperlo fare bene puoi sempre migliorare, ovviamente, ma quello non è il punto del discorso. Il punto è che ero arrivato a un punto in cui non aveva più significato il farlo bene, farlo male, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio perché ero dentro la routine, ero dentro il ritmo, in and out, entravo e uscivo, entravo e uscivo, entravo e uscivo, continuavo però a fare questo circolo in cui non c'era mai un controllo esterno, non c'era mai il momento in cui prendevo la pausa e dico ok, il ciclo di lavoro sta funzionando, sta andando tutto bene. Non so se avete mai giocato ai giochi strategici in cui magari, tipo, una cosa fa... un edificio fa la legna, un edificio fa il cibo, un edificio fa l'oro, un edificio fa le armi, un edificio fa il ferro, e se tutto funziona in equilibrio, allora tutto va dritto. Appena uno di questi pezzi si ferma, devi capire qual è il problema e devi fermare un attimo magari tutto quanto. Stesso concetto, stesso identico concetto. Io mi sono fermato, mi sono reso conto, holy shit, quante cose che sto facendo male! Ed è proprio per questo che mi sono preso una pausa, che questa settimana ho streamato tre giorni in totale, domani tecnicamente streamerò il terzo giorno di questa settimana, settimana prossima streamerò di nuovo poco e niente, proprio perché ho deciso di fermarmi, riprendere il controllo della situazione e dire io ho avuto un sacco di idee, me le sono sempre messe da parte, perché dico sì, quando un po' di tempo libero ci penso. E in tutte queste idee, quante ne ho eseguite? Poche, veramente veramente poche. E anzi, alcune delle esecuzioni hanno portato alcuni a pensare che magari avevo semplicemente preso spunto per un format o per un'idea, ed è stato abbastanza brutto, perché non è quello che voglio fare. Cioè, se voglio fare qualcosa, voglio fare qualcosa che non sia unico, perché non esiste fare le cose uniche a questo mondo, ormai siamo così, siamo sette cazzo di miliardi di persone, è impossibile essere totalmente unici. C'è sempre un ah ma ricorda questo, ah ma ricorda quello. L'unicità è sopravvalutata per ora, per me almeno. Ora mi concentro sul fare qualcosa bene, che possa essere apprezzato perché c'è il mio flavor, il mio modo di fare, che non è unico, ma è comunque qualcosa che può essere apprezzato da qualcuno. E in tutto ciò, in tutto ciò, come sono arrivato al capire che questo circolo non funzionava? Perché non c'era un equilibrio tra tempo libero e tempo per lavoro, che sia riposarsi, che sia passare il tempo con la propria ragazza, con i propri amici, con la propria famiglia. Cioè, io ci sono amici che non vedo da mesi, letteralmente non li vedo, e non per il coronavirus, ma proprio perché cinque mesi che non li vedo, e anche di più, proprio perché dicevo sempre no, il weekend è impegnato, no, devo fare questo, no, devo fare quello, no, devo fare quell'altro. E ogni volta rimandavo, 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 e ovviamente certe persone, ovviamente si chiedono e dicono per quale cazzo di motivo dovrei invitar fuori una persona che il 90% dei casi mi dirà hey, devo lavorare, quindi non ci sono. E in tutto ciò, mi sono reso conto di quanto mi mancassero certe cose, anche l'uscire con gli amici, anche parlare di certe cose, anche chiacchierare semplicemente, mi sono trovato dopo la pausa e dico dopo due giorni, questa è una cosa che è stata strana, dopo due giorni che mi sono fermato del tutto dallo streamare, mi sono reso conto hey, ho voglia di parlare con questa persona, l'ho chiamata al telefono ed era tipo sai da quanto non abbiamo una conversazione così lunga? Io ero tipo strano, e dico no, vabbè, dai, non sarà così tanto. È da giugno dell'anno scorso. Io ero tipo ma no, dai, esagerato. No, perché me l'ha rinfacciato perché avevo iniziato la maratona all'inizio di maggio e beh all'inizio di aprile, scusate, all'inizio di aprile e è stato imbarazzante perché mi sono reso conto di quanto mi fossi scollegato dalla mia vita pur di dedicarmi a questa sfida e a dedicarmi al lavoro che uno può pensare vabbè, dai, alla fine hai imparato il tuo errore, hai imparato il tuo problema, ma mi immagino quanta gente ci sia là fuori che pensa se lavoro un po' di più, se lavoro, faccio questo sforzo in più ogni singola volta magari posso superare, posso essere migliore, posso arrivare più lontano e sì, ci saranno momenti della vita di una persona in cui dovrà dedicarsi ancora di più al proprio lavoro, alla propria passione, alla propria idea, al proprio obiettivo ultimo che vuole arrivare e è normale, ci saranno i momenti di crunch, dei momenti in cui devi andare all in, devi scommettere tutto quello che hai e dici vai, io ci credo, io ci vado, lo faccio e questo per me non era una cosa del genere perché non era, l'obiettivo erano solo i giorni, tutti i giorni nel mezzo però non avevano significato, nessun significato, quei 365 giorni era la totalità che aveva un valore, non il singolo giorno e uno può dire ok, che cambia, alla fine hai ottenuto il tuo risultato, sei riuscito ad arrivare dove volevi arrivare, sì, ma in quei 365 giorni io spesso volentieri purtroppo non mi ricordo tanti di quei giorni che magari sono anche stati belli, perché? Perché non ho avuto il tempo di ripensarci, perché non ho avuto il tempo di fermarmi e apprezzare quei momenti e uno, e tutti diranno ma è la cosa più ovvia del mondo, no, perché c'è tanta gente che conosco anche personalmente che vedo che si fa il culo e lavora all'infinito e non si prende una pausa e non si prende un momento, molti hanno avuto la fortuna di rendersene conto prima di me, rendersi conto prima di me di farsi male a lavorare così tanto e hanno ricalibrato subito. Io, è stato un escalation per me, perché negli anni ho sempre fatto di più, di più, di più, di più, di più, un pochino, ogni anno sempre di più, ogni anno sempre di più e poi mi è venuta in mente questa sfida che quanto è stupida questa sfida, lavorare ogni giorno per 365 giorni, streamare ogni giorno per 365 giorni e la cosa positiva almeno è che ho avuto modo di rimanere in contatto con tantissime persone che non posso solo che apprezzare per essere rimasti con me e sopportarmi per tanti dei miei momenti anche più difficili e pesanti e magari rabbiosi è il termine sbagliato, magari scazzato, un po' infastidito, perché comunque io sono una persona che non fingo di stare bene se sto male, non fingo di stare male se sto bene e di quelli ce n'è una marea state attenti ragazzi perché quelli sono le persone peggiori secondo me ma il succo è questo è che non c'è un valore nel fare qualcosa senza fermarsi e apprezzare quello che hai fatto non questa è la cosa più grossa che ho imparato fermati prenditi una pausa calmati tutto quello che fai tutte le persone che ti vogliono bene tutti quelli che ti seguono tutto quanto è ancora lì anche dopo tre giorni questo può suonare stupido e io mi vergogno un po' a dirlo l'altro giorno avevo l'ansia addosso proprio stavo facendo fatica a respirare avevo il cuore che batteva mille volete sapere perché? perché erano due giorni che non streamavo avevo l'ansia addosso dicevo devo andare in streaming la gente non sa che ci sono mi sono fermato da solo respirando con calma mi sono reso conto dopo va tutto bene è ancora tutto lì le persone ci sono le persone sono tornate le persone stanno lì quello che fai non è che ha perso di valore non è che se ti sei fermato adesso non vai più niente mi sono dovuto fermare a questo modo cioè perché questo era quanto nella mia testa era entrato il ragionamento devo streamare ogni giorno è qualcosa che ti mette mi mettevo ansia da solo addosso pur di fare qualcosa dovevo continuare continuare a fare e a un certo punto mi ricordo a 240 giorni ero ed ero stanchissimo nella mia testa avevo pensato vabbè forse potrei fermarla la maratona forse non ne vale la pena e in quel momento è partito proprio il ragionamento no devo portarla alla fine devo continuare a streamare ogni giorno lì è proprio ho tagliato fuori totalmente ogni reazione del cervello ogni reazione del corpo che mi diceva smetti e ho continuato in tutto ciò però così facendo mi sono danneggiato da solo mi sono messo in testa l'idea devo farlo ogni giorno devo farlo ogni giorno è entrato nel mio subconscio è entrato nella mia testa in un modo in cui io mi mettevo ansia da solo a fare queste cose perché se no partivo un feedback negativo nel corpo stavo male fisicamente a non fare qualcosa avevo proprio l'orticaria a pensare di stare fermo e in questi giorni non è che sia diminuita questa cosa ma mi sto rendendo conto mi sento stupido nello stare a questo modo perché non dovrei stare così non per il lavoro non per niente cioè deve essere qualcosa che ha un valore perché mi faccia stare a questo modo e sì il mio lavoro ha un valore ma penso che la mia vita abbia un valore leggermente più alto le persone a cui voglio bene abbiano un valore decisamente più alto e devo portare rispetto verso questa cosa devo proteggere questa cosa perché se non lo faccio starò solo che peggio sempre e comunque e quindi non ho intenzione di continuare a fare la maratona c'era tanta gente che questo è quando ho detto finirò la maratona chiuderò la maratona c'era gente che mi diceva dai rapo continua 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 e nella mia testa ero tipo però potrei continuare però potrei farcela ho l'energia ho il potere di farlo sì ho il potere di farlo dovrei farlo no no e per fortuna ho scelto di non continuare per fortuna ho scelto di fermarmi scelta migliore in assoluto ragazzi datevi il tempo ogni volta per ogni cosa che fate per ogni lavoro che fate per ogni studio che fate datevi un giorno o due alla settimana in cui vi fermate ma proprio vi scollegate del tutto perché se no tornerete sempre ogni volta su quello che è il vostro lavoro il vostro studio e non ce la farete non nel modo in cui sapete farlo al vostro meglio mai nella vita ci riuscirete ci saranno periodi in cui dovrete magari fare tipo ok due settimane di fine in cui non potete fermarvi ma poi fermatevi per una settimana fermatevi per un periodo non costringetevi ad andare a ritmi che il vostro corpo non può sostenere perché arriverà il momento in cui comincerete a pensare ah magari potrei trovare potrei bere un po' più caffè ah magari c'è qualcos'altro che mi permette di stare più sveglio più attento più vispo più creativo e sono andato anch'io per quella strada pensandoci e quello è stato uno dei miei primi campanelli d'alarmi ho pensato porca droia sto davvero pensando di andare oltre alla caffeina no 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 mi sono fermato subito là e ho detto questo è un problema questo è un grosso problema e mi sono ripromesso di non ripensarci mai più questo era mancavano tipo due mesi mancavano tipo 60 giorni non mi ricordo quando ero lì mi sono veramente spaventato perché è stato un momento in cui ho detto ho davvero pensato a fare qualcosa di più che non voglio nemmeno pensare concepire o provare a a immaginarmi che cosa perché non non è concepibile è sbagliato che esista un'idea del genere nella mia testa e meno male che ho la sanità mentale per rendermi conto che mi sono fermato subito quindi per quanto il mio cervello abbia in inglese c'è questo modo di dire my brain entertained this idea si è divertito con questa idea cioè l'ha concepito ma non l'ha messo in atto il mio cervello ha pensato una cosa ma il mio buonsenso mi ha fermato istantaneamente nel momento in cui l'ho pensato e per fortuna perché questo vuol dire che almeno i miei genitori una cosa l'hanno fatta giusta mi hanno insegnato a usare il cervello per fortuna almeno questo ma signori come dicevo prima quindi la maratona è finita è stata una sfida di un anno è stata interessante l'ho superata di gran lunga perché sono arrivato a 417 giorni e da tutto ciò per chi non vuole guardarsi i video fino alla fine andate a dire a quelli all'inizio ehi all'ultimo minuto c'è una spiegazione molto semplice too long didn't watch non fatevi del male non lavorate ogni giorno datevi del tempo per voi stessi fatelo a modo e scollegatevi del tutto dal vostro lavoro quando non state lavorando a questo modo probabilmente vivrete una vita più felice almeno per me è così magari per voi non lo è questo è quanto per questo video vi ricordo di iscrivervi se vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo